ciao a tutti sapevi che se allungati al massimo i polmoni potrebbero coprire un intero campo da tennis i polmoni sani sono essenziali per la vita forniscono ossigeno al sangue mentre filtrano i prodotti di scarto attraverso la respirazione tutti gli inquinanti e le particelle di polvere intorno a noi non rendono le cose facili per i polmoni hanno bisogno di una spinta aggiuntiva data da cibi ricchi di antiossidanti nel video di oggi discutiamo in dettaglio di 12 di questi alimenti mangiare noci aiuta che ne dici di una tisana oh no devo mangiare più verdure a foglia verde parleremo di tutto questo e di tanto altro ancora 1 verdure a foglia lo so le verdure a foglia verde non sono qualcosa che la maggior parte delle persone desidera mangiare con impazienza ad alcuni basta il gusto per farli vomitare ma se stai cercando di avere i polmoni più sani non hai davvero scelta le persone considerano le insalate le verdure a foglia verde come cibo per conigli non si rendono conto che una dieta sana può portare ferro potassio magnesio calcio vitamine e carotenoidi una porzione di verdure a foglia verde è qualcosa che dovresti aggiungere alla tua dieta se vuoi salvaguardare i tuoi polmoni dagli attacchi virali spinaci cavoli cavoli cinesi bietole rucola e barbabietole hanno alcune incredibili proprietà antiossidanti e anti infiammatorie i bronchioli sono tubi sottili che portano l'aria dal naso ai polmoni l'alto contenuto di magnesio in questi alimenti può rilassare i bronchioli non solo prevengono la restrizione delle vie aeree ma riducono anche le possibilità di cancro ai polmoni e disturbo polmonare ostruttivo cronico o bp co2 noci se vuoi una vita lunga con un sistema immunitario sano hai bisogno di buoni polmoni una dieta ricca di sostanze nutritive migliora significativamente la qualità della tua vita e tiene a bada malattie polmonari come l'asma e la fibrosi le noci sono l'alimento ideale per questo le noci sono ricche di acidi grassi omega 3 che possono essere un'ottima scelta vegana per coloro che sono diventati vegetariani gli acidi grassi omega 3 aiutano a controllare l'infiammazione dei polmoni ricorda di tostarne leggermente una manciata eco spargerle sull'insalata per guadagnare una vera boccata d'aria fresca 3 acqua questo dovrebbe andare da sé sfortunatamente alcune persone dimenticano di bere la giusta quantità di acqua per dirla semplicemente l'acqua è vita è la migliore bevanda disintossicante per eliminare le tossine e i prodotti infiammatori dell'organismo quindi quando il tuo corpo è costantemente in guerra con le sostanze inquinanti del fumo o semplicemente lotta per respirare ossigeno quando stai a casa bere da 8 a 10 bicchieri d'acqua al giorno può essere d'aiuto non solo ti farà sentire idratato ma ti terrà anche lontano o lontana da una serie di patologie polmonari 4 acciughe il problema delle acciughe e che si amano o si odiano non sono esattamente quel cibo che la maggior parte delle persone vorrebbe sulla pizza bene se non sei un fan forse questo ti farà cambiare idea non tutto il pesce in scatola fa male le acciughe sono pesci che trattengono i loro nutrienti potrebbe essere perché sono conservate sott'olio mentre altri pesci come il salmone possono essere conservati in acqua sono ricchi di acidi grassi omega 3 insieme a selenio calcio e ferro il salmone ottimo per le persone con bp co e asma non è fantastico come puoi aggiungere ingredienti semplici al cibo e prolungare letteralmente la durata della tua vita 5 mele cosa c'entrano le mele è una specie di frutto miracoloso tutti abbiamo sentito il detto una mela al giorno leva il medico di torno beh in realtà c'è del vero in questo uno studio ha dimostrato che mangiare 5 o più mele alla settimana rallenta il declino della funzione polmonare negli ex fumatori questo è direttamente collegato all'elevata concentrazione di antiossidanti flavonoidi e vitamina c sono anche ottime per mantenere la glicemia le ossa e il cuore 6 broccoli se stai mangiando sano questa verdura non ha bisogno di presentazioni appartiene alla famiglia delle crocifere so che abbiamo menzionato le verdure a foglia verde un paio di minuti fa bene detto tra me e te i broccoli hanno la meglio su molte di loro un composto chiamato sulforafano protegge il sistema respiratorio aiuta anche a combattere la bpc o un consiglio veloce per aumentare il sulforafano assunto dai broccoli e mangiarli crudi cuocerli a vapore grigliarli o bollirli romperà il loro composto chimico forse dopo aver sentito questo darai ai broccoli una seconda possibilità la prossima volta che ti aggirerai per la corsia dei vegetali congelati 7 tisana stai ancora ingurgitando lattine di bibite quando hai sete beh faresti meglio a ridurre perché ti stai seriamente danneggiando i polmoni bevi invece una tisana la tisana ti dà una sensazione molto rilassata l'infuso di erbe di ingredienti naturali non zuccherati può risolvere i problemi digestivi combattere le infezioni e proteggere il tuo corpo dallo stress ossidativo i tè che stimolano il sistema immunitario come lo zenzero la liquirizia il sambuco sono particolarmente popolari puoi anche prendere una tazza di tè verde gli studi hanno dimostrato che la fibrosi polmonare è ridotta nelle persone che consumano l'estratto di tè verde 8 aglio si usa l'aglio in medicina da secoli crescendo potresti aver visto i tuoi nonni usarlo per diverse cose l'aglio ha molti benefici medici riparare i polmoni è uno di questi le sue proprietà antivirali possono essere utili per chi soffre di asma e bronchite può anche aiutare i polmoni a respirare il glutatione un flavonoide specializzato può aiutare a liberarsi delle tossine e dei patogeni cancerogeni dai polmoni quindi che tu abbia o meno il raffreddore prova ad aggiungere l'aglio nella tua dieta quotidiana mettilo nel condimento per l'insalata o sopra un toast è fantastico anche nel curry e nelle zuppe 9 pompelmo questo è uno spuntino delizioso e ottimo anche per una colazione alla frutta viene considerato un ottimo tonico per la perdita di peso poiché è composto dal 92 per cento di acqua mangiare anche un solo pompelmo può mantenerti idratato o idratata può anche tenere lontane le tue voglie di cibo spazzatura ma non è di questo che stiamo parlando oggi concentriamoci su ciò che fa ai tuoi polmoni gli agrumi hanno un incredibile contenuto di vitamina c essenziale per combattere le infezioni respiratorie questo frutto può ridurre il respiro similante nei bambini e migliorare la respirazione nei pazienti con bp co c'è anche la naringina un altro flavonoide con effetti anti infiammatori sui polmoni 10 mirtilli questo è un frutto che troppe persone trascurano voglio dire nessuno penserebbe che i mirtilli facciano bene ai polmoni i mirtilli possono facilitare la respirazione i bio flavonoidi e gli antiossidanti come gli antociani conferiscono loro il colore viola bluastro possono letteralmente curare qualsiasi cosa dal cancro all'arresto cardiaco possono aumentare la funzione dei polmoni e diminuire le possibilità di malattie respiratorie ora ci sono molti altri cibi di colore viola come melanzane e cavolo rosso ma quando si parla dell'effetto antiossidante queste bacche sono molto meglio scegli quelli più piccoli rispetto a quelli rotondi dall'aspetto perfetto sono più gustosi e ricchi di sostanze nutritive butta una manciata di queste minuscole bombe salutari nei frullati nei cupcake e nei muffin 11 ginger cioè zenzero questa non è esattamente la spezia che metti sulle alette di pollo ma è comunque una spezia potente lo zenzero racchiude una moltitudine di sostanze nutritive probabilmente ne hai un po in dispensa proprio in questo momento aggiungerlo alla tua dieta può avere un impatto molto grande sui tuoi polmoni può aiutarti a inalare più ossigeno ridurre la tensione e l'infiammazione e fermare la produzione di muco nel sistema respiratorio lo zenzero ha la capacità di sciogliere il muco e di espellerlo dal tuo organismo rilassa i bronchioli nei polmoni non c'è da stupirsi se così tanti sciroppi per la tosse hanno lo zenzero come ingrediente di base parliamo di un'altra spezia 12 curcuma questa spezia dorata è diventata famosa per le giuste ragioni la curcuma è da anni uno dei migliori integratori medicinali della natura puoi trovare la curcuma aggiunta in tanti tipi di tè nel latte macchiato nei cosmetici come estratto in capsule e in alimenti i benefici effettivi provengono da un composto incredibile chiamato curcumina è un componente attivo che agisce come un potente antiossidante è responsabile della pulizia del tratto respiratorio superiore uno studio ha scoperto che i fumatori che hanno consumato la curcumina hanno migliorato le prestazioni dei loro polmoni fino al 10 per cento rispetto ai fumatori che non l'hanno presa il latte alla curcuma è una bevanda miracolosa per il tuo organismo il latte in generale ha tanti grandi benefici per la salute